Scusi, posso un po'... Sì, se ne puoi, grazie. Fratelli d'Italia oggi in piazza per denunciare il fallimento delle politiche del governo in tema di contrasto alla pandemia, il fallimento del Green Pass per rivendicare il suo convinto voto contrario all'ennesimo decreto fatto di norme insensate. Perché il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, ha piegato la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che noi abbiamo un tasso di contagi più alto di quello di nazioni nelle quali neanche lontanamente sono state imposte le stesse restrizioni e peggio ancora abbiamo uno dei tassi di mortalità da Covid più alti d'Europa. Siamo stati gli unici a denunciarlo perché lo avevamo previsto. Abbiamo detto che la campagna vaccinale, che era fondamentale, non sarebbe da sola abbassata. Abbiamo chiesto potenziamento dei mezzi pubblici, abbiamo chiesto l'azione meccanica controllata nelle scuole, abbiamo chiesto un protocollo di cure che non fosse il ridicolo, tachipirine e vigile attesa, abbiamo chiesto potenziamento del sistema sanitario. Siamo stati ignorati, ma la storia e i numeri ci hanno dato ragione. Questo governo irresponsabile era troppo impegnato a mettere gli italiani gli uni contro gli altri per occuparsi di cose serie, ma rimane l'irresponsabilità di non aver voluto ascoltare le proposte serie e responsabili dell'opposizione. Il fallimento è certificato dai numeri che non sono un'opinione e tradiscono l'incapacità di un ministro della salute che in qualsiasi normale governo sarebbe già stato rimosso da terra.